Colpo perfetto, tenente. Avevi ragione, sergente. A tutti. Hassan è morto, nemico ucciso. Le autorità confermano che un guasto elettrico è stato il motivo dell'esplosione nel centro di Chicago la scorsa notte a causa dei forti venti che hanno lasciato al buio migliaia di residenti. La fornitura sarà ripristinata in serata. Tra le altre notizie... Che merda la CIA. Molto creativi. Io non parlo. Malqatala, l'Iran... Cartelli russi. Shepard, Shadow. Ci sono sfuggiti. Erano in vantaggio. Alla testa che cadranno. Novità su Shepard. È scomparso. Ah, lo troveremo. C'è un pesce più grosso. Ho indagato sui russi. È un lavoro sporco. Degli ultranazionalisti hanno guidato l'attacco. Kate è finita. No, non lo è. Lavorano con uno nuovo. Chi? Non sappiamo il nome. Non è nuovo. Ma chi è? Marker off.